Ciao a tutti, è qualche giorno che non mi collego, non propongo riflessioni in diretta, ma sono stato proprio fino a pochi minuti fa a parlare con un mio amico che si intende molto più di me di questione di finanza. Proviene dal mondo creditizio, ha un'esperienza importante nell'ambito appunto del credito, della finanza, ma soprattutto grazie appunto alla concessione, alla gestione del credito, ha capacità di comprendere lo stato di salute dell'economia reale. Insieme abbiamo anche controllato in rete alcuni video che mi sono stati mandati su WhatsApp relativi a commenti disperati quasi, fatti da piccoli imprenditori del Nord che al ritorno dalle ferie hanno trovato fatture dell'Enel, in particolar modo stratosferiche, strabilianti, facendo commenti e raffrontando queste stesse fatture con quelle che hanno ricevuto a luglio e ad agosto del 2021. In alcuni casi la moltiplicazione era per 4, quindi da, per esempio, ho memoria di un video in cui si segnalava che da 8.222 euro, inclusi 1.500 euro di oneri di sistema, questa è stata la fattura dell'anno passato, questa azienda, se non ricordo male, veneta, era arrivata a ricevere una fattura per lo stesso periodo dell'anno di oltre 34.000 euro, quindi da 8.200 oltre 34.000. Come voi capite ci troviamo di fronte ad aumenti che non sono più del 4% o del 40%, ma sono aumenti del 400 e rotti per 100. Qui non si è ancora capito che cosa potrebbe, e ahimè io temo, che cosa arriverà nei prossimi mesi. E la classe politica si diverte a dir cazzate. Per le elezioni io sento affrontare questioni relative alla matriciana, relative alla reistituzione del servizio militare, alle devianze, ma non c'è l'idea di che cosa possa arrivare. Un vero e proprio tsunami, che non è quello del 2013, lo tsunami tour, è qualcosa di drammaticamente diverso, su cui tutti quanti dobbiamo essere preparati. È qualcosa che dipende da scelte politiche non soltanto italiane, perché sono state scelte politiche condivise con l'Unione Europea e con tanti partner che hanno voluto che noi ci imbarcassimo in un'esperienza, quella di sostenere non la causa della pace, ma la causa della guerra, al fine di far cortocircuitare sistemi economici produttivi con conseguenze sociali. Badate, perché le conseguenze sociali che arriveranno saranno drammatiche. Io spero di essere smentito, spero che vi possa essere una totale, totale sconfessione di quanto sto dicendo, però temo che non sia così, per quel poco che ne capisco di macrofinanza, di finanze e di economia. Purtroppo il credito ci penalizzerà, saremo tutti in gravi difficoltà e vedremo i sorci verdi. Allora, quanto vi voglio dire, è collegato anche ad un dibattito che è stato surrettiziamente introdotto da alcuni nell'ambito politico, perché ho seguito con attenzione alcune posizioni di politici italiani, secondo cui sarebbe il caso di trasformare la nostra Costituzione e di introdurre il presidenzialismo. Dio ce ne scampi e liberi. Vorrei che queste mie parole venissero ascoltate con attenzione da tutti, in particolar modo da quelli che hanno creduto in un progetto che voleva l'intelligenza collettiva al centro del dibattito pubblico per far crescere tutti quanti noi e per far consapevolizzare tutti quanti i cittadini italiani di essere cittadini e non sudditi. E si è cittadini quando si recupera sovranità, sovranità alimentare, sovranità energetica, ma anche forse sovranità fiscale, sovranità monetaria. Ecco, questi sono temi su cui dovremmo ragionare, perché avendo ceduto sovranità noi abbiamo purtroppo la prospettiva di diventare sempre più servi. E questo non va bene. I nostri nonni hanno combattuto dando la vita per la libertà. Noi ci siamo liberati alla fine degli anni della Seconda Guerra Mondiale da un'esperienza tragica. Fra l'altro nel 1922 in Italia noi abbiamo vissuto la marcia su Roma. A fine ottobre qualcuno ha deciso di svendere quel poco che c'era di democrazia, di Stato liberale e abbiamo avviato un ventennio che è stato funesto. È vero, eravamo ancora sudditi, ma forse qualche libertà. Il suddito nell'Italia giolittiana un pochino ce l'aveva, ma nel regime fascista tutto questo è stato spazzato via. Ecco, allora mi rivolgo a tutti che siano elettori oppure astenuti, elettori di quella forza politica oppure no. Fate attenzione a chi argomenta a favore del presidenzialismo e ricordate che il presidenzialismo di fatto è stato introdotto da una comunicazione politica che ci ha impedito di ragionare e ci ha, facendoci infatuare ogni volta del leader, ci ha fatto credere innanzitutto che Mario Monti fosse la soluzione del problema, poi magari che la soluzione potesse essere Beppe Grillo oppure Bersani oppure Matteo Renzi oppure Luigi Di Maio oppure Matteo Salvini oppure Giuseppe Conte oppure Giorgia Meloni come pare si debba credere adesso oppure Mario Draghi. Noi dobbiamo cercare di capire che inseguire il leader che decida per noi è da cretini. Noi dobbiamo tutti quanti ragionare con la nostra testa, per esempio iniziando a ridurre gli sprechi, non i consumi, gli sprechi energetici di cui siamo in qualche modo tutti quanti vittime perché siamo stati abituati da un sistema consumistico a pensare che anche l'energia fosse illimitata e infinita. Facciamo attenzione perché le prossime settimane potrebbero essere l'inizio di cataclismi, altro che la crisi del 2007 e del 2008, altro che il 2011 con il ballo dello spread. Fate attenzione perché quando poi i grandi investitori iniziano a immettere sul mercato grandi quantità di titoli del debito pubblico allora ci sarà da divertirsi perché poi tutti i giornaloni apriranno. Noi dobbiamo recuperare anche la gestione del nostro debito pubblico perché il debito pubblico è un problema se viene messo in moneta altra e se viene ad essere detenuto da investitori altri ma se al contrario lo trasferissimo alla proprietà di noi italiani sarebbe altra cosa. Noi abbiamo una moneta unica ma abbiamo una fiscalità diversa che favorisce alcuni paesi che fanno dumping fiscale e queste cose noi le dovevamo dire, le abbiamo dette per qualche tempo agli inizi, poi qualcuno moderato e liberale per andare al governo ha deciso di svendere i motivi per cui era nata la forza politica da cui sono stato espulso. Adesso ragioniamoci e cerchiamo di non perdere la fiducia perché la battaglia sarà lunga e sarà anche molto molto difficile e ci saranno anche molti caduti perché in battaglia ci sono anche i feriti ma anche i morti però noi dobbiamo sopravvivere, lo dobbiamo a noi stessi, ai nostri figli, ai nostri nipoti ma anche e soprattutto per esempio ai nostri nonni, a chi credendo nella libertà si è immolato per la nostra carta costituzionale. E allora benvenga il Parlamento e ricordatevi che per esempio il Presidente della Repubblica secondo la Costituzione italiana non può essere oggetto di rielezione visto che l'Italia è l'unico paese che prevede il settennato. Ricordatevi anche che il Presidente della Repubblica per come vuole la nostra carta costituzionale ha il potere di ratifica dei ministri non il potere di imposizione degli stati e alcuni ministri a partire dal Conte 1 per passare poi al Conte 2 e al Draghi sono stati imposti dal Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica ha il potere di ratifica, propone il Presidente del Consiglio incaricato e poi il Presidente della Repubblica può dire sì oppure no ma non può suggerirlo chi debbano essere i ministri e non può soprattutto farsi un quattordicennato. Ricordiamoci e facciamo attenzione, vi anticipo che con altri colleghi e ex colleghi e con tanti altri cittadini ci si sta muovendo perché non possiamo rimanere inerti, lo dobbiamo a noi stessi e non possiamo essere passivi spettatori. Prossimamente vi faremo avere delle notizie io ed altri amici che stiamo lavorando a questo progetto. Alla prossima!